Qui il Main Event sta andando avanti, ecco i tavoli, ci sono i ragazzi della People Poker TV che stanno girando e una chiacchierata tra il direttore del torneo e Ivan, il presentatore della People Poker TV. Proviamo a chiedergli qualcosa. Posso solo chiederti quanto disturba il presentatore della People Poker TV il torneo? Da 1 a 10? Sì, sincero. Sinceramente, senza il presentatore della People Poker TV, quanto sarebbe meglio? Il problema non è la presenza di Ivan in sé. Dove volete arrivare? Sono le calze di Ivan. Oggi ho delle calze davvero pure. Sì, le ho viste durante la prestazione. Io ho trovato suggerirei dei pantaloni di Nikot e delle shorts. Sì, almeno le calze si vedono bene. Possiamo mostrare la calza? Ma perché vuole? Possiamo mostrare la calza? Come si dira indietro? Non mi dira indietro perché è obbligato. Io le ho messe a posta, perché stasera c'è la premazione dei più tremendi e quindi volevo essere... Doveva essere quasi tremendo. Esatto. No, diciamo anche un po' oltre il quasi. Diciamo tremendo e basta. Belline però, belline. Ci sono piaciute. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Proseguiamo.